Va bene, buongiorno, buongiorno a tutti, sia chi è qua ad occupare l'aula, ad affollare l'aula, e chi è a casa ad ascoltare, e soprattutto chi ascolterà anche la registrazione, sperando che rimanga come testimonianza e come punto di partenza. È un tema che cambia molto velocemente, quindi, come dire, può essere che ascoltando questo video fra cinque mesi, quattro mesi, apparirà come vecchio, come preistorico, temo. Però, vediamo, io stesso vengo da una recente esperienza di pubblicazione, dopo vi faccio vedere, ce l'ho qua, non so se si vede, lo faccio vedere, è un libro, ci sono 190 pagine, è un libro, una piccola monografia, che si intitola L'autore artificiale, creatività e proprietà intellettuale nell'era dell'intelligenza artificiale, nell'era dell'AI, che è pubblicato a giugno, e mi rendo conto come è difficile star dietro alle varie novità, nel senso che già alcuni paragrafi magari sarebbero da limare, da aggiornare, perché è uscita una sentenza, è uscita una nuova tecnologia, e quindi davvero, noi giuristi siamo sempre molto alla rincorsa, per fortuna voi invece siete dei tecnologi, e quindi siete sul pezzo. Noi dobbiamo aspettare che un fenomeno tecnologico si manifesti, diventi magari abbastanza radicato, e anche nell'uso, da parte appunto della collettività, per poi capire come sia meglio regolamentarlo e gestirlo, oppure a volte come sia meglio non regolamentarlo, perché non è detto che la regolamentazione sia sempre la soluzione. Questa lezione, come vedete, queste slide sono in inglese, quindi questa lezione sarebbe da fare in modo un po' fluido, bilingue, in modo tale che qualcun altro anche non italofono riesca a seguirla, quindi ogni tanto farò qualche lettura, diciamo tutto ciò che a parte le slide le farò in inglese, per essere coerente con quello che leggete, che vedete a schermo. Il titolo, come vedete, è A New Concept of Creativity, Intellectual Property Issues Around Generative AI, pronunciato in modo anglofono. Quindi un nuovo concetto, io l'ho tradotto sul mio blog, una nuova concezione di creatività. E poi andiamo sul tema, io sono un giurista, quindi intanto mi presento, vengo da Studi Giuridici, anche se con un percorso un po', come vedete, un po' alternativo, nel senso che oltre ad essere diventato avvocato, subito durante il praticantato d'avvocato, quindi in quegli anni tra il 2003, il 2007, il 2008, ho fatto una seconda laurea in scienza della pubblica amministrazione, sempre studiando un po' l'aspetto dei rapporti tra, cioè anche nella seconda tesi, tra tecnologia e diritto. E poi sono arrivato a fare un dottorato qua in Bicocca, che era un dottorato che adesso non esiste più, quantomeno è stato accorpato, assorbito da una scuola di dottorato, e quindi questo nome non lo trovate più, che si chiamava Società dell'Informazione, Qualità della vita nella Società dell'Informazione, quindi era un dottorato un po' trasversale, molto trasversale anzi, non un po', perché prendeva davvero da tutte le facoltà, da tutti, diciamo, tutte le forme, ho avuto a che fare con diversi modi di pensare e modi di studiare, io venivo da studi giuridici e scienze politiche che non sono poi così distanti, e invece qua mi sono trovato con pedagogisti, sociologi, informatici puri, esperti di user experience, e insomma è stato un bel lavoro di osmosi, in senso che stando a contatto con questi miei colleghi, ho acquisito delle conoscenze barra competenze che è normalmente difficile acquisire per un giurista, quindi spero di riuscire a parlare una lingua, a fare degli esempi che magari sono per voi più vicini, più comprensibili, come vedete ho fatto anche poi dei corsi di perfezionamento, tra cui uno, Coding for Lawyers, che viene fatto qua in Statale a Milano, Coding for Lawyers and Legal Tech, cioè quindi un corso per spiegare ai giuristi cosa vuol dire programmare e sviluppare tecnologia, ovviamente considerato anche il tipo di platea, cioè cercano di spiegare l'informatica e lo sviluppo di tecnologia, con un approccio un po' più friendly, per chi invece viene da studi completamente diversi. Ho varie docenze, il mio corso da cinque anni principale è a Firenze, l'ISIA, che è un'università di design, un'accademia di design che dà una laurea triennale poi specialistica, e da questa primavera anche all'Università di Bologna, nella sede di Ravenna, anche lì un corso mio sul diritto delle tecnologie digitali. Basta, il libro ve l'ho già fatto vedere, e qua avete tutti i miei riferimenti online, a lot of ways to follow, to contact me. I wish that a lot of people can follow my website, my blog, and my social media account, because I'm very active, molti dicono che sono troppo attivo, cioè alcuni miei colleghi dicono che sono un po' troppo attivo sui social, però è un modo per fare divulgazione, perché ho anche questa, diciamo, anima di divulgatore, cercare di spiegare con cose, con magari video di un minuto, come va di modo adesso, concetti un po' complicati, se andate a vedere, ce n'è uno proprio di ieri sera, perché ho commentato il caso di Kira Knightley, l'attrice di Bruce Willis, che hanno, stanno facendo delle cose, dopo magari ne parliamo, stanno facendo delle azioni legali, o stanno facendo comunque delle dichiarazioni, proprio in materia di intelligenza artificiale, di deepfake e cose del genere. Ok. Ecco, poi magari questa registrazione verrà, oltre che diffusa, diciamo, alla platea di oggi, magari anche spezzettata in piccoli video e messa su YouTube per essere vista anche da un pubblico più ampio. Ecco il libro. A suggestion for further investigation, quindi, if you want to deepen what I'm saying in this one hour, one hour and a half here, you can read my book. This is in Italian. We are working on an English translation of the book. It's not so easy, because it's not just a translation, a language translation. We need to adapt also the concept, the context. ed è un problema per noi giuristi, perché il diritto è diverso per ogni nazione, quindi purtroppo il diritto è una delle materie che si presta meno a fare queste cose, perché tradurre questo libro vuol dire, innanzitutto, chiedersi a quale contesto giuridico, a quale ordinamento giuridico fai riferimento. Se vuoi fare una cosa che sia il più possibile neutra internazionale, non è facile, perché ti scontri con le differenze dei vari ordinamenti. Ad esempio, il copyright americano non è proprio uguale al diritto d'autore italiano, e quindi questo è un libro che sto scritto, comunque, con il mio approccio da giurista italiano, che rivendico e di cui vado orgoglioso assolutamente, però quando ti rivolgi a un pubblico americano, o di inglesi, ad esempio, devi rivedere proprio i concetti, non è una semplice traduzione lessicale e linguistica.